Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi giochiamo con le mie pistole. Guardate quante pistole abbiamo qua. Spariamo ai mostri. Che sono nascosti. Sono nascosti in tutta la casa. Ok, carichiamo le pistole adesso. Prendiamo il... Ho preso una munizione. Carichiamo la seconda. Comunque ce ne sono da tutte le parti. Oltre sono nascosti in aperto tutto. Anche forse sul tavolo. Io non lo so, ma li vedo. Eccoci, abbiamo caricato tutta la pistola. Guardate. Adesso andiamo a cacciare i mostri. Carichiamo il primo mostro, che è il ciccione. Eccolo qua. L'abbiamo caricato. Eccolo è morto. Basta. L'abbiamo fatto fuori, che c'è uno stracciato. Adesso andiamo a cacciare un altro. Sarà molto bello. Prendiamo altro pistole. Queste due. Ecco, comunque, due pistole. Adesso cerchiamo un altro mostriciatto. Oh! Oh! Che cos'è? Oh! Quanto lo conosco, lo conosco, un dinosaurio. Eccolo, l'abbiamo fatto fuori, anche questo. Yeah! Adesso andiamo con queste due, che sono identiche. Andiamo. Ok, forse lo distruggiamo. Eccolo qua. Eccolo qua. Questo è stato qua sotto. Scalpito. Ucciso anche questo. Andiamo avanti a cercare un altro. Ora prendo l'altro pistole. Da qua. Che mi piace molto, mi ha regalato qualcuno. Andiamo dietro di vanno. Eccolo c'è dietro di vanno. Vedo un occhio rosso. Eccolo. Ma è gucilla! Oh, che brutto! Io sono andato da lui, eh. Questa volta sto qua. Yeah! Che è questo? Guardate un po'. Cerchiamo un altro, ragazzi, adesso. Questo senti tutto se camminiamo forte. Devo camminare piano piano, se no mi sento. provato. L'ho preso per il becco. L'ho preso per il becco. Ha l'inghia troppo stroccato. Sembra che se ne l'ha colorato. Abbiamo fatto fare anche questo. Abbiamo fatto fare anche questo. E' strano. E' strano. E' strano. Questo non l'ho mai visto. Guarda, un sotto. Sotto è azzurro! Anche il mento. Ragazzi, lo abbiamo ucciso tutti. Tutti, tutti, tutti. Ciao, ci vediamo al prossimo video! Sotto è un bel pollicione! Ciao, ciao!